bene siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo manuale e spero che tu abbia visto tutte le oltre quattro ore di lezioni che ci sono contenute e che ti sia trovato bene con tutti gli strumenti didattici che ti ho messo in mano quindi midi files clic accelera gli audio samples le basi insomma tutto quanto spero che abbia trovato giovamento da questo sforzo quindi ti invito a continuare con la mia didattica se ti sei trovato bene non ti mancano informazioni andando sul web quindi da qui in poi il viaggio insieme potrebbe essere molto lungo sempre se tu ti sei trovato bene ma questo se sei arrivato a leggere queste conclusioni secondo me hai fatto tutto il manuale e quindi ti auguro veramente buona vita buona musica di essere felice con la chitarra anche se questa non dovesse essere il tuo mestiere si può essere musicisti tutta la vita senza avere la partita iva dico io ai seminari quindi si può essere musicisti senza fare musicista di mestiere ma godendo di quanto della gioia che la musica ti può dare perché suonando trovi io credo si possa trovare un grande contatto con se stessi quindi senza andare a filosofeggiare troppo abbiamo già parlato e studiato e ti saluto ti invito a venirmi a trovare sul web attraverso social network il mio sito e quindi ti saluto e di nuovo buona vita e buona musica ciao